I consiglieri comunali del PD presentano due interrogazioni in consiglio frutto del lavoro portato avanti dal circolo PD di Sassa con il segretario Quirino Crosta che oggi chiede conto al sindaco su due questioni importanti che riguardano la frazione, le risorse e ben 45 milioni di euro per infrastrutture, compresa la scuola ancora al palo e la viabilità che il sindaco ha annunciato per Sassa e la faccenda dell'antenna di telefonia mobile dinanzi alla chiesa di San Pietro, uno proprio mai rimosso nonostante le battaglie e il cui contratto di locazione scadenza nel novembre del 2023 senza tacito rinnovo. Il comune avrà tutto il tempo per non rinnovarlo perché non ha un tacito rinnovo e trovare una nuova localizzazione quindi noi oggi torniamo a chiedere attenzione su questo tema e al comune e al sindaco di toglierla. La seconda interrogazione riguarda 45 milioni di euro di interventi come da dichiarazione del sindaco Biondi di febbraio 2021 che riguardano la viabilità, la scuola e via dicendo. Noi chiediamo punto per punto, intervento per intervento, quando inizieranno questi lavori, come sono stati organizzati qual è il cronoprogramma di questi interventi sulla base del quale la gente che abita nella zona ovest si deve riorganizzare la vita. Il circolo rileva che nella frazione ci sono moltissimi problemi a partire dalle condizioni dei MUSP per arrivare alla viabilità alla questione dell'Exercom, passando per le condizioni delle infrastrutture fognare, il sindaco aveva annunciato interventi e lavori. Ora il PD dice quando partiranno. Anche il circolo di pagani che frazioni con la segretaria Deborah Palmerini era presente, anche loro chiedono conto attraverso un'altra interrogazione di tante questioni che riguardano la frazione e soprattutto la condizione delle scuole attualmente ancora nei MUSP e la realizzazione di quella nuova.